Mario Criciù. Voi mi avete risolto tutti i problemi. Sono soddisfatto di quello che avete fatto. Sono contento, sono felice, ho sofferto un po' perché sono... però è andato tutto bene. Manderò molti clienti perché mi sono trovato bene. Sinceramente, a tutti, ma non a tutti, poi vedrete quante persone vi manderò. Speriamo che mi hanno mandato qualche regalo. No, ma quale sconto? Io non voglio dire più, sto soddisfatto. Eh, ma se si rompe qua sto... tanto sto in garanzia a vita.